Alla presenza di autorità civili, religiose e militari oggi si è celebrata proprio una manifestazione in onore di Santa Barbara, vostra patrona, una manifestazione che ha visto anche tanta emozione e tanta partecipazione. Sì, una celebrazione molto sentita da noi marinai, Santa Barbara, la santa patrona della marina militare. Abbiamo cercato di celebrarla nel modo più opportuno, siamo emozionati di questo e non mi aspettavo la partecipazione così copiosa di tutta la marineria, anche dei cittadini saccensi. Che dire, adesso ci appropinquiamo a bordo della motovedetta per ricordare anche coloro i quali hanno sacrificato la loro vita in male deponendo una corona. Importante è la partecipazione delle SOSI, il sovrano ordine di San Giovanni in Gerusalemme? Assolutamente sì, ha coronato questo momento in maniera assolutamente positiva e ringrazio il balì di Gran Croce, ringrazio la commenta di Mazzaravallo per aver accolto il mio invito ed aver partecipato con numerosi cavalieri a questa cerimonia. Anche il sovrano ordine di San Giovanni in Gerusalemme è presente qui alla manifestazione per Santa Barbara Sciacca. Cosa ne pensate di questa manifestazione? È grandissima l'emozione. L'emozione è veramente tanta, è una bellissima manifestazione, hanno toccato dei punti veramente interessanti appunto i nostri marò, il volontariato, soprattutto fare molta resistenza sul nostro volontariato che è molto importante in Italia.